Portare il museo nella città, questo l'obiettivo di Museo Senza Limiti, progetto finanziato dalla Regione Campania per 55.000 euro e formulato dal Comune di Ponte Cagnano-Faiano in partenariato col Polo Museale della Campania, il Museo Archeologico di Ponte Cagnano, Lega Ambiente Campania e l'Università degli Studi di Salerno. Il progetto attraverso la valorizzazione dei luoghi interessati da importanti scoperte di scavo, arricchiti da installazione d'arte contemporanea ispirata a reperti archeologici, si propone di portare il museo nella città e di accompagnare la comunità di Ponte Cagnano-Faiano alla scoperta dell'inestimabile patrimonio culturale del territorio. Io sono veramente molto contenta, soddisfatta e allo stesso tempo emozionata perché appena due giorni dal mio insediamento c'era la possibilità di partecipare a questo porro regionale molto scettica perché mi ero resa conto che negli anni passati non era stato mai presentato un progetto, quindi non avendo storicità partivamo penalizzati sulla riuscita poi del progetto. Mi hanno proposto questo museo senza limiti, io l'ho sottoposto al sindaco, era un progetto molto valido che comunque dava una continuità e dava valore al patrimonio artistico di Ponte Cagnano. Ci abbiamo lavorato, ci siamo riusciti, diciamo che possiamo finalmente riattribuire alla città di Ponte Cagnano i propri valori. Ponte Cagnano merita un rispetto culturale secondo me. Come diceva prima la dottoressa Tomai siamo a circa 9.950 tombe, 10.000 penso nel giro di 4-5 mesi, un traguardo importante, i primi in Italia, quindi i primi in Italia, museo nazionale, poco frequentato, poco conosciuto. Diciamo che con questo progetto noi vogliamo veramente rivalutare il museo. Il museo è il nostro bigliettino da visita della città, attorno al museo può girare tutta l'economia di Ponte Cagnano, il turismo, i negozianti, quindi sono fiduciosa. Penso che riusciamo in questo progetto che vi assicuro è veramente una cosa bella perché poi ci saranno comunque delle opere che rimarranno comunque permanenti, quindi portiamo il museo al centro della città.